Oh, ma dov'è essere uscito ad Avercrombie, eh, Avercrombie? Visto che robettina! Ora mi rubo il telefono, eh, siamo sulla Rambla. Oggi siamo qua, a Rambla e Bill, dici? Siamo qui a provare un posticino, una dolceria, fa... Guarda che ci passano alcun accanto. Fa gelati, gelati e gelati. Però la particolarità di questo posto è il suo proprietario. Chi è? Giordi Roca. Giordi Roca. Bisogna dirgli un po' chi è Giordi Roca. Sì, dai, spiega. Allora, Giordi Roca è uno dei tre fratelli della famiglia Roca, dei tre J. Sono tre chef, Joan, Joseph e Giordi, che hanno aperto un ristorante qua a Girona che nel 2010 ha preso tre stelle Michelin. 2013-2015, il miglior ristorante al mondo. Quindi lui è il pasticcere, è famosissimo, ma proprio a livello internazionale perché lui in pratica non parla, se guardate qualche video suo ha dei problemi con le corde vocali, comunque non riesce a parlare, però è un grandissimo imprenditore. Non a casa, infatti, oltre ad avere quel tre stelle Michelin, ha aperto anche Rocambolesque, dove andremo noi oggi. di una gelateria, che lui è molto appassionato di gelati, quindi, insomma, non è un coglioncello, diciamolo. Dolciumi, grande appassionato ai dolci come noi, quindi vediamo un po' cosa ci offre. Locale, proprio qui su Arambla, Rocambolesca. Dall'esterno appare così, molto semplice. Non c'è nessuno, siamo gli unici da capire se è effettivamente buono oppure no. Allora, il piano per questo posto è il seguente. Ci sono tipo quattro tipologie di prodotti, tre principalmente, però ne prenderemo quattro. Visto che si tratta di gelato non possiamo prendere tutte insieme, quindi quello che faremo sarà una cosa abbastanza imbarazzante, ovvero entreremo a turni uno alla volta e, a sorpresa, prenderemo qualcosa. Così assaggeremo tutto e ci sarà un po' di suspanse. Inizio io, ovvio. Dove si accomoda lei che le porto la pietanza? Ti aspetto sulla Rambla, se non mi rubano prima. Aspettami. Riprendiamo a Francesco. Qui fate diversi produttivi. Hola, uno dei Rocanas. E' il naso di Jordi, corretto? Si. Ok, ok. L'acquisto è stato fatto. Ora lo portiamo a Francesco. Ma dove è andato? Questo si è nascosto nella Rambla. Vai. Che hai preso? Mi eri quasi mancato. Guarda che ti ho preso. Bello il naso. Il naso dello chef. Ah, ma c'è tutte le tipologie di naso. Dustin Hoffman, Barbara Streisand. Che cazzo è questa cosa? La spinge. Ah, il naso è staccato, giustamente. C'è da dire che comunque c'è una bella nappa, eh. C'è una bella nappa? Thomas Weathers. C'è 9 centimetri di naso. Una bella sleppa, eh. Jordi c'è la bella patatina. Allora, c'è anche i valori nutrizionali qua. grassi zero, 141 calorie. Ci piace. Sono stracurioso di questi perché non so se sono ghiaccioli o poi c'è un involucro di pasta di cacao e dentro c'è un ripieno al gelato proprio. Pagato questo? Hai già detto? 5 euro e 50. Eh, eh, c***o tanto, eh. Mi sa che sì, è un ghiacciolo. È un narice che c'ha. E lui? Ti assomiglia? Mamma che nappa. Mordo la narice così si fa uno e uno. Mmm. Ghiacciolo. Però è buono. Ma che gusto è? Fresa, fragola. Cioè, sto leccando il naso di un chef tre stelle Michelin. Ti dico, forse questo non ne vale 5 euro. Ha un buon sapore ma nient'altro da dire. Tanto, eh. Un po' di acqua e frutta. Proviamo. Delusione. È un ghiacciolone. Secondo me bisogna andare a provare altro là dentro. Vai. Ne sai il tuo momento. Andiamo a prendere un po' di robetta. Come si deve. Ha figo che è. C'è il naso, Darth Vader, un uomo nudo, un dito. Mi sa che opto per un bel cono adesso. È l'ignorante. Sei gusti differenti ci sono. Due tipologie di coni. Uno dove ci metti solamente il gelato e uno dove puoi condirlo con tutte le robettine sopra. Devo correre adesso. Si sta sciogliendo. Guarda che robettina. Questa cosa come si deve. Guarda qua. Eh. Eh. Bellino eh. Si sta sciogliendo. Questo è un gelato pagato 4 ore e 70. Cono. Beh però c'è la di roba. Si sta già sciogliendo quindi la qualità dovrebbe essere anche tanta robetta. Ci abbiamo fatto mettere tre topping. Il gelato è alla mela cotta. Semi di zucca caramellati, crumble e le perle. E gli? Non lo so. E questi sono crumble della cannella. Attacco subito. Vai. Buon davvero zio eh. Fatto un bel lavoretto? Orca p***a. Fatto con la macchina? Infatti scelta. Con la soft air. Sì. Cos'hai pensi dei gelati fatti con quella macchina? Hanno più aria con il gelato. Più volume, meno prodotto. T'ho curioso del gelato alla mela che non ho mai provato. C***o. Senti la mela eh. Perché non esiste il gelato alla mela? No. Esiste. Magari è più difficile però. Mai trovato? Due. Questi che sono? Le petardi. Qualcosa con le noci? Noci di macadamia rivestite di cioccolato. Questo per 4,70 euro ti dico ci sta. Ci ha messo anche un bel po' dentro il cono di gelato. Si va a mangiare molto volentieri. Poi un bel saponino di tutti anche i toppings. Quello normale costa mi sembra 3,80 euro. Questi per neanche un euro in più ci sta a metterli. Mettiamo anche la cialda. Io quando prendo il gelato mi prendo sempre il cono. Perchè anche quello fa parte di tutta l'esperienza. E per la valutazione di una buona gelateria. Difficile trova cialda così eh. Troccanti. Fine. Sei proprio felice di mangiare. Non sei triste e ti finisce il gelato e c'è la cialda. Gelato approvato. E i ghiacciolini beh. Però ora ti vado a prendere una robettina. Te non lo sai cosa sto fando là dentro. Ma c'è una cosa. Sfatti. Ti fidi? È ovvio. Non c'ho alternative. Papati il gelato però a te. Vai. Zio sei pronto? Eh. Oh. Guarda la robettina. Che abbiamo ancora? Cos'è questa robetta? Mi piace un botto? Che robettina è? Questi sono me il signature proprio di qua. Non si può dire. Dai bisogna mangiarlo questo. Dentro un po' di topping. Chiuso. Ah ci sono anche i topping. Eh sì sì sì. Lo vuoi mordere? Vai. Allora io sono un grandissimo fan. Oltre del cono gelato anche del pane col gelato. Quindi mettere un gelato dentro un saccottino. Fatto tipo waffle è pazzesco. È una genialata per me. Caldo freddo qui che accostamento. Un altro. Un altro. È buonissimo. L'impasto esterno. L'impasto esterno. Sembra quasi un mollichino di pane dolce. Una crosta all'esterno croccante. Pagato quanto questo? 5,60 euro. 5,60 euro. Che ci hai messo anche le noccioline caramellate? Vaniglia, gruie di cacao, nocciole sabbiate e poi ci sono dei quadrettini tipo di cioccolato. E' un modo incredibile per mangiare il gelato. Prendiamo un altro. Almeno questo. Questo quasi da un sol boccone. Questo è buono. Qua 5 euro ben spesi. Poi me l'hai lasciato un boccone. Andiamo a prendere un altro. Siamo entri qui dentro tre volte. Prendiamo un'altra cosa insieme. Poi entriamo insieme. Capito? E io non ci mettiamo il brano dentro. Facciamo una. Si chiude. Certo. E' un po' come la borsa delle donne. Adios. E' davvero stavolta. Comunque è incredibile quanto tutte le volte facciamo esageratamente schifo. Guarda lì. Tu hai scelto di fuori il cioccolato. Bello. Questo l'hai scelto te di gusti eh. Però me lo provo io. Vai. Che fiamma di cioccolato. Ma dove cerca di uscire? E' roba. Alvelo buono. Ve lo faccio detto? I brown incastrati dentro. E non mi aspettavo fosse un panino. Cioè pensavo fosse tipo waffle. Come una pastella. Invece panino, brioche. Dottore. Dottore. L'abbiamo creato. Ma sta roba di granellina croccante dentro. Ragazzi è venita a Barcellona assurda. Cioè. E' buonissimo. E ora c'è una coppettina. Con zucchero filato. E' buonissimo. E' buonissimo. E' buonissimo. Ed ora c'è una coppettina. Con zucchero filato. E' buonissimo. devi spingere dentro brusco a palardo figata che tutte queste combinazioni di gelati dentro le coppette sono ispirati ai dessert che servono in ristorante stellato base yogurt con una confettura caramello e sopra gli abbiamo fatto attivare la macchina del zucco filato per metterci questa spolveratina in zucco filato molto carino esteticamente non so come si mangia il zucco filato con il gelato però sinceramente lo metto di scraffina prima in bocca e poi in zucco filato è di divertoso ma che è? freddo meglio l'altro era questo è più il classico yogurtino che trovi anche a giro al mare yogurt il zucco filato assolutamente estetica sopra vediamo com'è beh però è un buono yogurt è un buono yogurt però è un gelato a yogurt ecco questo non è che ne vale tantissimo rispetto invece a quel paninazzo al cioccolato quello è più caratteristico del rocambolesco questo lo trovi un pochino da tutte le parti intanto sotto abbiamo creato il panico generale ci sta è un po' da femminucce se non avessi la dignità e dei freni tornare lì a prendere il paninozzo quello con il cioccolato è devastante ciao ragazzi ciao voglia ci abbiamo tutte le zampo appiccicosi di gelato mi sono andato ci hanno fermato un bel po' i ragazzi poi gli avrò appiccicato il giaccio sulla schiena perché ci si abbracciava vabbè scusate se vi trovate nei ghiaccio di gelato addosso però questo rocambolesco aveva iniziato un po' meh però poi con quel paninozzo tutto meritato il paninozzo merita la tappa obbligatoria a rocambolesco gli altri prodotti sono buoni ma niente ecco che ti fa venire voglia di spendere 5 euro quel paninozzo merita la tappa quel paninozzo ormai siamo sporchi il cioccolato gli fa garantire la stella zini del passaggio la stella zini perfetta ora cominciamo con le stelle zini apposto il nostro amico giordi sarà chiamata bene a panini ci sa fare mi raccomando combo con cioccolato, brownie, pipe di cioccolato croccantina e caramello una sozzata incredibile perciò ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto speriamo di avervi fatto scoprire sto posticino qui io non lo conoscevo me l'ha fatto con Shireale noi come alzati ci vediamo prossimamente in un nuovo bellissimo video arrivederci